Vittorio Melone, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto, oggi i risultati delle elezioni, com'è andata? E' andata bene, io voglio ringraziare i colleghi di Vasto che ancora una volta mi hanno onorato della loro preferenza e leggendomi ancora una volta al Consiglio dell'Ordine con il massimo, voglio dire, il più alto numero di preferenze che supera abbondantemente anche il 50% del totale su un 70% di aventi diritto al voto che hanno partecipato. E dal punto di vista numerico quanti avvocati hanno partecipato al voto? Hanno partecipato al voto 265 avvocati su 387 che avevano diritto al voto. Alla luce di questi risultati si profila una conferma alla guida dell'Ordine degli Avvocati di Vasto? E' probabile, devo ritenere di sì, insomma, per la fiducia che mi è stata data anche dallo stesso foro collocandomi come primo degli eletti in qualche modo hanno dato anche un'indicazione al futuro Consiglio. Ma per me era anche una verifica, dopo quattro anni, di capire quanto fosse stato apprezzato o meno visto appunto in modo adeguato quello che io ho portato avanti insieme al Consiglio uscente. Ringrazio tutti, anche coloro i quali non si sono ricandidati e non sono stati rieletti con un nuovo ingresso di due donne e quindi oggi portiamo a quattro il numero della componente femminile nel Consiglio dell'Ordine di Vasto, cosa mai avvenuta. Dieci candidati per nove posti, pochi candidati? Forse c'è un po' area di smobilitazione in questo tribunale. No, il problema è che in un tribunale piccolo dove già quella parte di iscritti che non hanno cinque anni di iscrizione non possono candidarsi. Poi ci sono tutti quei colleghi che purtroppo non possono affrontare il peso e le rinunce determinate dall'essere consigliere dell'Ordine perché si hanno tutta una serie di incompatibilità con incarichi come curatore, delegato alle vendite, amministratore di sostegno. Io non posso essere nominato neppure curatore speciale che è un ufficio gratuito dai magistrati del Tribunale di Vasto perché l'Ordine esprime dei pareri, dei giudizi sui magistrati e quindi giustamente per legge vi è questa incompatibilità. In una situazione economica come la nostra, in una realtà come la nostra in una situazione economica generale, è chiaro che tutti quei colleghi che attingono economicamente anche attraverso gli incarichi del Tribunale non possono rendersi disponibili. Poi sicuramente il fatto che purtroppo questo Tribunale è in scadenza significa che chi è all'ordine al lavoro che già è tanto dopo la riforma del 2015 deve aggiungere anche l'impegno per la salvezza di questo Tribunale e quindi non tutti con la massima onestà sono disposti a rinunciare in termini di tempo di famiglia e di professione per fare questo.